Una brevissima presentazione per questo video che ha una particolarità. Dipingo con acrilico e acquerello, insieme. Mescoliamo queste due tecniche e vediamo quello che ne verrà fuori, per cui buona visione. Nel corso del video sarà mia cura dirvi o mettere con Didasca Elie le varie tecniche che sto usando sul disegno, sul foglio di carta. Dico disegno perché è proprio un disegno, cioè una volontà di costruire un dipinto, un piccolo dipinto, usando il colore acquerello, aiutandomi con la grafite solubile e considerando il colore acrilico come un valido aiuto e in sostanza chiamato a collaborare insieme all'acquerello per quello che è un dipinto che rappresenta il mare. Ma praticamente un mare che esiste nella mia testa o meglio nella mia intenzione che è quello di rappresentare un cielo molto cupo su un mare quasi nero e perché oggi mi andava di dimostrare quello che è il mio stato d'animo di fronte a questo periodo che stiamo vivendo e che mi suggerisce attraverso i miei occhi che osservano ciò che di più familiare ho davanti ad essi che è il mare, testimoniando una sensazione che io posso tradurre soltanto con gli strumenti che ho a disposizione che sono il disegno e la pittura. In questo momento vedete sto usando l'acquerello e in particolar modo il blu oltremare francese. Sotto vi è un poco di rosa permanente che dà forse una tinta un poco rosata, un poco più fredda a questo blu che io sto mettendo in campo, ma naturalmente tutto quello che sto facendo adesso è proprio propedeutico a preparare un fondo per poi accogliere una una stesura che man mano che va avanti il dipinto appare sempre più più complessa, più complessa perché quando si opera in questo modo ovviamente si cerca di trovare quello che effettivamente si vuole poi raggiungere sul foglio di carta o sulla tela. Naturalmente essendo una composizione totalmente mnemonica, quindi totalmente inventata, ho a disposizione parecchie soluzioni. Parecchie soluzioni che io cerco confrontandomi con le tecniche che io adopero e vedendo quale tipo di soluzione è meglio per me, per riuscire ad affrontare un soggetto che voglio, che esprima proprio una sensazione di freddo pomeriggio, di buio dovuto alle grandi nubi che sovrastano il mare e per far questo ho bisogno di una base che riesca a imprimere alla carta un notevole grado di assorbimento dell'acqua. Ovviamente quando questo tipo di carta a 300 grammi assorbe acqua e assorbe colore arriva ad un certo punto che praticamente rimane come quasi satura di esso e quindi quando io poi in un secondo momento interverrò con il colore acrilico avrò la possibilità anche di creare un impasto opaco che mi dà la possibilità di avere un risultato ancora ancora più profondo. Io adesso qui al blu oltremare francese, sempre ad acquerello, ho usato il nero avorio. I pigmenti naturalmente anche con l'acquerello non sono tutti uguali, per cui io con il nero avorio raggiungo una densità e una diciamo profondità di tono molto molto più grande, molto più più importante che con il blu oltremare francese che tende subitissimo ad essere molto più trasparente di esso. Quindi quest'unione, questo connubio rivela delle possibilità interessanti, perché unisce due colori che hanno molto in comune, in quanto proprio a variazione di tono. Infatti se noi uniamo il nero avorio in acquerello e il blu oltremare francese otteniamo una bellissima tonalità di blu scuro. Adesso ho quasi completato quella che è, diciamo, la prima stesura e poi vediamo come poter riuscire a intervenire con il colore acrilico. Ma prima di affrontare il colore acrilico, prima di dare al colore acrilico la possibilità di intervenire sul dipinto, io uso la graffite solubile. La uso per due motivi fondamentali. Il primo è perché in alcune parti determina un tratto più scuro e quindi contribuisce a scurire già la materia che io ho messo sul dipinto, ma in altra maniera, cioè in secondo in secondo luogo e non meno importante, mi dà la possibilità di costruire, di fare dei segni sul disegno che vanno di pari passo con le pennellate che sono sul fondo, quindi interagiscono e poi mi suggeriscono anche delle possibilità che io avrò nel futuro di questo disegno di intervenire con i colori. Questo tipo di segno che io metto con la graffite idrosolubile verrà fuori e si nasconderà in modo tale proprio da creare in tutto il lavoro una piccola texture che quando verrà scoperta rivelerà il segno. sotto il segno dato con la graffite mi aiuta proprio a essere in quel momento, quando appare esso, più incisivo e quindi a determinare all'interno di questo di quest'opera pittorica un segno grafico che dà una sorta di movimento per quel che mi riguarda a me e quindi per la mia scelta che è che è importante per il dipinto, è importante perché perché attraverso di esso io comunico un certo tipo di vibrazione appunto del segno stesso. Adesso io, come avete visto, con il bianco, perché solo il bianco in questo momento che uso ad acrilico, intervengo sul colore, quindi sull'acquarello e vedete come il colore acrilico bianco si fonda con l'acquarello sottostante e segue in un certo qual modo le direttive, se così possiamo dire, della graffite, del segno della graffite che io ho messo prima di dipingere con l'acrilico. Userò altri due colori acrilici nel corso di questo disegno. Uno sarà il blu cobalto chiaro e un altro sarà il nero avorio e poi in ultimo, in ultima battuta proprio, sia il colore ad acquarello che il colore d'acrilico, non andrò solamente ad usarli uno sopra l'altro, ma proprio li mischierò insieme sulla tavolozza. Cosa possiamo dire a questo proposito tra l'interazione tra il colore acrilico e l'acquarello, che può avvenire ovviamente in due modi, o sulla tavolozza o proprio sul dipinto stesso, come avviene in questo momento. Questo tipo di reazione, di consolidamento del colore che avviene con l'unione di queste due, di queste due, apparentemente così diverse interpretazioni del pigmento, che sono il colore acrilico e il colore ad acquarello, mi danno una struttura particolare, diversa, che varia dalla sua opacità man mano che, ovviamente, il colore acrilico prende il suo sopravvento, però adesso asciutto, posso sovradipingerlo con il colore ad acquarello e ottenere tutte delle sfumature e delle trasparenze ancora molto interessanti. Quindi vi consiglio proprio di fare questa prova, di provarli, di vedere come possono coesistere insieme. Addirittura noi possiamo dipingere con l'acrilico e poi velarlo con l'acquarello. Questo lo possiamo fare anche quando, anzi è meglio farlo, quando il colore acrilico non è totalmente asciutto. E vedrete che vi saranno delle bellissime sorprese. Adesso io continuo, avete visto, ho continuato con la grafite e lo farò in vari passaggi, proprio per determinare questa volontà di tenere sempre tutto il dipinto unito, in modo tale che non vi siano delle parti che possono essere così distanti una dall'altra. Proprio funge questo da unione, da trade union, fra queste due materie, cioè il colore acrilico e l'acquarello, e anche ovviamente da base di esso. Il cielo si fa sempre più fosco e man mano che io riesco ad andare sopra con il colore, rendo la superficie sempre più satura e più capace di assorbire e di tenere il colore. Da un punto di vista della creazione dell'opera, tutto ciò che avviene, che io faccio sul foglio di carta, non viene dimenticato. Anche se io faccio dei tratti che poi ricopro con un altro colore e che apparentemente spariscano, io ho memoria di quei tratti, che mi sono serviti proprio per riuscire poi dopo a capire come intervenire sulla superficie in un secondo momento. E se io poi li vado a scavare, vado a scavare questo colore, li ritrovo e la memoria agisce sia per il ricordo che ho delle nuvole, quindi dell'ambiente e della possibilità che ho di ricreare un certo tipo di stato naturale, e proprio il ricordo che ho dei segni che ho fatto precedentemente, che utilizzo via via che il dipinto si compie. vedete che in questo momento proprio faccio quello che ho detto prima, cioè sto mischiando veramente il colore acrilico con il colore ad acquerello. Adesso levo sempre con la carta igienica, perché è una carta molto assorbente, molto sottile e riesco a intravedere quello che ho fatto precedentemente e essendo la superficie bagnata, ora la graffite vedrete che ha un altro tipo di funzione, vedete che non lascia più il segno della matita, quindi il nero della matita, ma è come se incidesse, come se graffiasse la superficie del del foglio e per farlo ancora di più e ancora molto più efficacemente ho bisogno proprio di creare una superficie molto molto chiara in modo tale da poter poi intervenire con essa e quindi costruire un altro tipo di texture, un altro tipo di segno dove poi io andrò sopra a dipingere e a disegnare di nuovo. Sempre il blu oltremare francese e intervengo naturalmente su questa superficie per raffreddare un po' col tono prima di intervenire con con la graffite. In questo modo do quel quel tono più diciamo primigenio, quel tono che ho usato proprio nello sfondo precedentemente. ecco vedete adesso io con la graffite faccio proprio questi segni dove praticamente non lascio segni di graffite sul foglio ma proprio mi servono per riuscire a ristabilire una texture che poi mi mi aiuti adesso nella parte finale ad eseguire i segni che mi aiuteranno a costruire questa questa cascata proprio di nuvole che può suggerire il vento che può suggerire la pioggia e che mette che rende il dipinto più dinamico naturalmente. Il colore acrilico si asciuga e a differenza dell'acquerello che non ha questo tipo di di diciamo di inconveniente naturalmente tende ad abbassare di tono ma ma si risposa benissimo con con l'intenzione che io di di usare questi due materiali affinché possano restituirmi ciò che io voglio che mi restituiscano. Adesso in questo momento faccio un'operazione particolare e che naturalmente sembra quasi non non essere molto in linea con quello che poi voi vedrete che io che io faccio adesso con il con il colore bianco però questo colore qui scuro questo nero avorio che io metto ad acrilico e il conseguente blu oltre mare francese ad acquerello con cui lo impasto sono fondamentali per creare quel tipo di di trasparenza e di idea di di cascata bianca che ho intenzione di mettere verso verso la fine del dipinto. Una cosa importante che io tendo sempre ad ottenere e non spesso ci riesco quello di di riuscire a dar l'impressione che il dipinto sia fatto senza troppe diciamo troppi rimaneggiamenti e troppe stesure ma nonostante ve ne siano molte abbia sempre una un impatto fresco che risulti che risulti vibrante e non pesante alla vista e per quello che ci tengo molto affinché i segni siano i protagonisti perché attraverso il segno che io lascio sul dipinto posso posso tenere questo sento che questo è un modo per per riuscire a comunicare quelle che sono le mie le mie intenzioni e la mia la mia firma stilistica sui lavori che eseguo ecco adesso sto facendo quello tutto il tipo di velatura quel tipo di intervento di cui di cui ho parlato prima che mi serve proprio per per dare dinamicità al dipinto e per creare la curiosità necessaria per domandarsi che cosa sta succedendo là fuori davanti a noi davanti a questo a questo mare scuro e queste nuvole che ci sovrasta di cui non sappiamo assolutamente nulla non sappiamo dove porteranno non sappiamo quando e come pioverà e se questa pioggia ci farà più o meno male ma nell'attesa questa questa sensazione proprio di di impotenza a volte di fronte agli accadimenti mi costringono proprio a rappresentarli e a rappresentarli in tutta la loro diciamo la loro forza che hanno all'interno della mia la mia sensibilità di pittore di disegnatore quando si dipinge è dalla natura che noi dobbiamo trarre l'insegnamento maggiore se noi partiamo da una mediazione come quella fotografica abbiamo in qualche modo ceduto le armi a qualcosa che al posto nostro ha guardato e quindi ha mediato per conto nostro invece avere il coraggio anche di inventare ciò che si è guardato e si è memorizzato a volte è importante e fondamentale per riuscire proprio a ricostruirlo il nostro segno perché è da lì che il nostro segno si muove dalla valutazione e dalla comprensione della natura che noi abbiamo davanti agli occhi quindi noi possiamo far sì che il cielo possa essere più o meno nuvoloso più o meno tenebroso oppure che una casa possa essere più o meno illuminata ma lo scegliamo noi lo scegliamo noi con la nostra possibilità di intercedere fra noi e la natura che stiamo vedendo e prendendo dalla natura quello che ci interessa quello che lei ci insegna e sposarlo con l'intensità della nostra ricerca della nostra tenacia della nostra scoperta quotidiana attraverso quello che disegniamo e quello che dipingiamo ovviamente attraverso il nostro segno molte volte quando un dipinto di questo tipo pare finito io mi discosto un po' da esso vedo che il lavorio che ho fatto su di esso mi suggerisce alcuni interventi che secondo me sono fondamentali sono sono importanti questi interventi io li chiamo proprio strutturazione finale consolidamento di certe forme di certi e di certe superfici e queste proprio vengono suggerite dal lavoro che io faccio prima che molte volte mi soffermo meno ad osservarne il risultato tanto che sono preso dal dall'agire dal dipingere e dal lavorare sopra di esso e allora discostandomi un attimo prima di terminare il lavoro vedo che vi sono delle delle possibilità di azione che io devo assolutamente necessariamente riempire e quindi lo faccio adesso con il bianco non penso più in questo momento alle nuvole perché so che qualsiasi segno io lasci su di esse anche senza pensare a loro non devieranno l'attenzione e non restituiranno un altro oggetto che non siano le nuvole però agisco con il colore come se fosse qualsiasi altro elemento che possa essere una crepa sul muro o l'increspatura di un'onda oppure un segno che io posso vedere anche in un drappeggio in un vestito in qualsiasi superficie ho io contatto con gli occhi e che mi può interessare ecco io poi trasferisco tutte queste cose all'interno all'interno delle nuvole e dopo un lavorio di questo tipo anche elementi che possono sembrare estranei si compenetrano in maniera del tutto del tutto naturale il foglio anche se abbastanza spesso 300 grammi vedete noterete che ha degli ondulamenti naturalmente perché l'acrilico messo in maniera così corposa contribuisce a questo basta solo al termine quando è tutto asciugato passare dietro una leggerissima una leggerissimo strato di di acqua con il pennello e poi metterlo sopra il disegno sopra dei libri o un peso e nel giro di una quarta d'ora 20 minuti avremo il disegno completamente completamente piatto quindi vedete questi segni proprio mi danno la possibilità di completare e di dare quel tocco finale che restituisce questo tipo di vibrazione adesso lo liberiamo dalle catene dello scotch e spero che il video sia stato di vostro gradimento e che possiate anche voi provare questo tipo di collaborazione fra colore acrilico ed acquerello vi do appuntamento a martedì e vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere un mi piace al video di condividerlo sui vostri profili social e naturalmente di commentare come state facendo sotto la descrizione un saluto e buon weekend a tutte e a tutti voi